Da Savona al Savona, il risultato cambia se pur di poco, la sostanza no. Vince il Teramo e lo fa in una gara che ha più di un significato. Perché i Ligure e la partita del 2 maggio è ancora uno spettro che fa scattare in piedi il pubblico del Bonolis all'ingresso delle due squadre. La penalizzazione di suoi punti incombe sulle due formazioni, Vivarini sceglie Petrella dal primo minuto e non le noci e la voglia di risalire la china dal baratro della penalizzazione si traduce in voglia, per il Teramo, di dare un segnale forte alla sua gente. E così la prima fiammata al nono è anche quella che regala il vantaggio alla formazione bianco-rossa. La percussione è proprio di Petrella sulla destra e il paradosso è che i due piccolini confezionino la rete di testa del brasiliano Victor da Silva, primo sigillo per il sudamericano. Uno dei pochi a rimanere a Teramo dopo la sentenza che ha ricacciato il diavolo in Lega Pro. Il Teramo però si distrae, la condizione è quella che è, e il Savona inizia a credere che in fondo la partita non è poi così chiusa come si poteva pensare. La controprova poco lontani dalla mezz'ora, Vannucci pennella il traversone dalla corsia Mancina, la difesa del Teramo si dimentica sul secondo palo Demetrio Steffè, lasciato libero di colpire verso Tonti, incolpevole e trafitto per il gol che vale la parità. Il Teramo barcolla, cerca certezze che la tifoseria prova a dargli. Per la risposta basta attendere il minuto 40. Di Paolo Antonio deve tentare due cross, il primo da corner, respinto. Il secondo invece trova la testa vincente di un ex, altra curiosità, come Altobello che prende l'ascensore e batte Falcone sul pallo alla sua sinistra. La ripresa è meno spumeggiante, Vivarini richiama un applauditissimo Petrella per le noci, provando a dare peso ad un attacco che produce però solo la testa al lato, non di molto, di Dorazio dopo un'ora di gioco. Nel Teramo si fa amare Cecciarelli al suo posto Calvano. Spazio nel finale anche per Moreo, ma il risultato non cambia. Il Teramo centra la prima vittoria, sale a meno tre in classifica, aspettando che il Coni ed il Campo diano una mano ad eliminare anche il segno meno. Per conferme, mercoledì sera ad Ancona il primo impegno infrasettimanale. Non voglio guardare la classifica, ma più che altro dobbiamo rimanere concentrati sulla squadra per cercare di farla migliorare, farla crescere. Questo era l'obiettivo che avevo detto prima della partita e quindi al di là dei punti in questo momento qua, dobbiamo apprezzare la prima mezz'ora della squadra, dove effettivamente ha mostrato qualità, ha mostrato idee chiare, soprattutto uno spirito molto molto importante, che è quello che poi vogliamo sempre qui a Teramo. Sono molto molto contento dei nuovi che sono arrivati, sia chi è giocato dall'inizio, chi è che è subentrato. Quindi ci sono le basi per poter diventare una squadra importante per questo campionato. Grandi occasioni, sia da parte nostra che da parte loro, non ce ne sono state. Però penso che a livello di prestazione, a livello di gioco, a livello di una squadra che ha tenuto meglio il campo è sicuramente il Teramo. A parte magari quei 5-10 minuti dopo il gol del pareggio che abbiamo un pochettino, ci siamo un po' disorientati. Però io penso che oggi abbiamo dimostrato anche a loro che noi siamo una buona squadra. Sì, c'è stato qualche giocatore, infatti soprattutto Dorazio, che ha risentito un po' di questa pressione psicologica. Era la prima partita dopo tanto tempo e quindi abbiamo avuto un dispendio di energia mentale molto alto. Però ci sta perché anche questo fattore qua ci fa crescere e dobbiamo essere bravi anche sotto questo aspetto qui. Mentalmente dobbiamo essere una grande forza perché io vorrei dire una cosa, di stare molto attenti alle prestazioni degli albitri perché noi dobbiamo pensare solo e esclusivamente alle cose che facciamo in mezzo al campo. Beh, abbiamo fatto una discreta gara. Quello che è il ramarico più grosso è aver lasciato un po' di cattiveria e determinazione negli spogliatoi inizialmente compensata comunque dalla determinazione del Teramo. E poi aver preso due gol su pali inattive nettamente evitabili. Sulla rimessa laterale ci siamo fatti sorprendere dove sono stati bravi a inserirsi. Sul calcio d'angolo, sul doppio cross, comunque non si può perdere la marcatura in quella maniera. Altra cosa, sull'uno a uno, penso che avevamo una prevalenza di possesso palla in mezzo al campo e potevamo fargli male e siamo scivolati sulla classica buccia di banale del secondo gol che ha complicato poi tutto il secondo tempo. Adesso è inizio stagione, lavorare e magari tenere poi certi ritmi nel secondo tempo e fare male comunque a questo Teramo che non dimentico che è la squadra che ha vinto il campionato l'anno scorso. Quindi una squadra di ottimo livello. Per voi il 2 maggio era finito il campionato per il Teramo. Per noi è andato avanti con i play-out e tanto lavoro. Poi siamo stati coinvolti in questa cosa che era veramente assurda da parte nostra anche perché la nostra unica possibilità di salvarsi era vincere col Teramo. Poi tutto quello che si è infilato in mezzo l'abbiamo subito. l'abbiamo subito mentalmente, psicologicamente e nel lavorare per quello che riguarda la costituzione della squadra. Ci ha portato pochissimi benefici in questa situazione.